Posso guadagnarmi un piatto di carbonara a Roma? Scopriamolo! Salve, è possibile parlare ad un po' alcuno? Ah, non è mai se si fa tutto più, mi lascio fare La domanda? Sì C'è un modo per guadagnarmi una carbonara, proprio di qualcosa? Ci sono tanti, tanti modi Dai, su, metti di questa, dai Sveglio, è veloce, che stai a fare? È bello Ti fa costare denaro Fai in mano Cosa mi tocca fare per un piatto di pasta? Ma ringrazio a Dio che hai preso un piatto di pasta 129? E anche la carbonara ce la siamo bagnata Dai